Possiamo dire cuore ingrato nei confronti del Pescara, hai segnato tre gol i biancazzurri nelle ultime partite, hai il dente avvelenato. No, va bene, tutti sanno la stima che ho nei confronti del Pescara, come piazza, come squadra, come società, quindi voglio tanto bene a tutto Pescara e non dimenticherò mai quello che ho fatto là, quello che hanno fatto per me, però oggi sono giocatore del Crotone, sono contento di aver vinto e aver segnato. Avete reso tutto facile per voi, come mai? No, va bene, sembrava facile, però sicuramente non lo era, perché Pescara è una squadra forte, con giocatori forti, visto che hanno messo in difficoltà tante altre squadre, quindi non era semplice, penso che siamo scesi in campo col piede giusto, e si è visto da subito che la squadra aveva tanta voglia di vincere e l'abbiamo portata a casa. Possiamo dire che il Pescara quest'anno porta bene al Crotone, 3-0 all'andata, 4-1 questa sera, insomma, non c'è stata partita all'Adriatico, non c'è stata partita neanche questa sera? Penso che il merito va dato alla squadra, al mister che ci ha preparato molto bene, tante intensità, siamo andati alti a credire il Pescara, penso che nel primo mezz'ora abbiamo chiuso la partita, penso che la squadra quando ha questa mentalità, questa grinta, le altre fanno tanta fatica. Qual è l'obiettivo del Crotone? Va bene, penso che è chiaro, l'obiettivo è di rimanere attaccato nei primi posti, poi si sa, negli ultimi tre mesi si gioca tutto in Serie B, l'obiettivo è questo, bisogna continuare a muovere la classifica perché la classifica è molto corta e bisogna fare i punti. Parliamo un attimo del futuro perché si è parlato anche nelle settimane scorse di un possibile a fine stagione ritorno di Benali a Pescara, tu sei in scadenza con il Crotone, sei in scadenza di contratto? Sì, sì, sono in scadenza di contratto, però sinceramente non so nulla. O peresti a Pescara? Magari un giorno sì, però di sicuro non è una cosa che sto pensando in questo momento. Penso solo al Crotone, penso a finire bene la stagione e poi il mio futuro va fatto dopo perché è una cosa che non ci voglio nemmeno pensare. Tutta questa stagione va finito nel migliore dei modi e poi si pensa dopo.